buongiorno ebbene sì ci ha preso gusto a registrare anche la domenica spero mi faccia piacere anche perché anche se non faccio niente la domenica non è che gli altri giorni che faccio chissà quelle grandi cose quindi mi sono detto ma sì perlomeno la domenica sono libera nel lavoro e tra l'altro mi fa tantissimo piacere che mi lasciate dei commenti bellissimi dove mi dite che vi faccio compagnia che per me la cosa più bella e poi apprezzate proprio la semplicità dei miei video quindi meno male e grazie ovviamente e comunque domenica sono quasi le 8 c'è il sole che bello quindi stamattina ci faremo una passeggiatina andiamo fuori colazione facciamo una passeggiata poi si torna a casa quindi inizio a prepararmi mi vesto e andiamo ho messo la magliettina nuova di shane ma quanto è carina e poi anche super comoda e morbida infatti ne voglio assolutamente prendere altre di altri colori tra l'altro costava tipo 4 5 euro cappuccino di soia pizzetta c'è un intruso per morita e caffè macchiato pizzetta e le brioche per franci che bel sole che bella figlia e siamo usciti con i cani lei non è felice di andare in macchina però ora faccio un po' la passeggiata non è felice di sabbia che meraviglia allora tornati a casa mi sono subito cambiata mi sono messa a risistemare la casa che era ancora tutto sotto sopra adesso dono lavato il pavimento e poi si mangia allora pulizie fatte ora c'è il pavimento bagnato e ti pareva che qualcuno non camminava sul pavimento appena lavato? no ma girala tutta mi raccomando non lasciate neanche un centino di scoperta non si sa mai comunque per fortuna le zampette alla loro non si notano tanto sono quelle di hop che fanno più danni comunque io a pranzo mangio il pan pizza che con quel pane lì viene veramente buono Marco si è preso il pesce quindi devo cuocere il pesce nel forno ci vorrà almeno mezz'ora quindi gli proporrò di fare un aperitivo non un aperitivo solo aperitivo una birretta due stuzzichini mentre aspettiamo che il suo pesce cuocia Francesco come al solito non ha fame ma lui verrà fame verso le due due e mezza quindi ne riparleremo dopo allora abbiamo mangiato poi mi ero messa a montare il video per domani sono a metà ora mi sono fermata e perché devo andare di là da Francia o guardare guantissimo ma prima facciamo l'impacco ai capelli così lo tengo su almeno una mezz'oretta poi vado a struccarmi a fare la doccia dopodiché facciamo anche le unghie perché hanno iniziato a sbeccarsi hanno iniziato da ieri a sbeccarsi e oggi la situazione sta peggiorando ovviamente al momento sono così però insomma considerando che sono cinque giorni ci sta e con tutte le pulizie che faccio purtroppo più di tanto quindi dopo capelli, doccia eccetera mi dedicherò anche alle unghiette così proviamo i prodottini nuovi di Essence ok non troppo lezzi così è come sarei con i capelli legati che ogni tanto mi dite che starei bene seriamente beh io quasi quasi farei anche merenda allora ho l'impacco in testa da quasi un'ora ora aspetto altri dieci minuti così da togliere lo smalto intanto mi avvantaggio un po' e poi andiamo a togliere tutto e fare la doccia ok trattamento capelli e ora ho completato ora passiamo alle unghie ok siamo pronti allora la primissima cosa che vado a mettere è questo qui poi andrò a mettere questo poi metto lo smalto colorato poi per far asciugare in fretta comunque utilizzerò questo se che vite perché anche se ho quello di Essence dove va? questo qui quick dry comunque questo è molto più veloce così poi posso subito applicare gli sticker perché ovviamente voi che non mette gli sticker e poi infine il top coat questo qua quindi procediamo allora unghiette fatte ne ho fatto uno bianco per metterci sopra uno sticker di quelli più scuri ovviamente non fate caso alle sbavature quello rinforzante praticamente non è proprio uno smalto è più un liquido che si asciuga sull'unghia e poi niente ho fatto tutti i passaggi come vi dicevo e stiamo a vedere come va ora dovevo andare fuori a vedere se i panni io stesso sono asciutti ma sul terrazzo di fronte c'era la vicina quindi stavo aspettando prima di uscire e tra l'altro ho finalmente messo lo stendino fuori e non ho piovuto però mi sa che domani piove ok se ne è andata che brutta luce che c'è in questa cucina comunque è ora di cenare e come al solito non so cosa mangiare boh non lo so non lo so non lo so boh quasi quasi stasera ne faccio un po' di pastina in brodo anche perché mi è preso freddo che un po' di pastina bella calda non mi dispiacerebbe Olaf che c'è ma non stavi dormendo ora vado a chiedere a Francesco cosa vuole mangiare ah e comunque i capelli asciutti dopo tutto il trattamento di oggi certo magari la luce non è delle migliori vi faccio anche vedere meglio le unghiette mi raccomando non fate caso alle sbavature io adoro troppo questi sticker che sonno che ho stasera mamma mia comunque io anche per oggi vi saluto vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao